l'intervista vigni dei orange team partita terminata 6 a 4 vengono cosa quasi fanno otto gol a partita non si vince mai niente chi perde i palloni vince pure la passata vigni un'altra cosa lui comunque è il nigno è il nigno vigni cosa si prova ad essere nominato in campo di questo grande big match è bello sarà una bella è una bella soddisfazione anche se comunque il migliore in campo era raffaele però non fa niente senti quanti gol hai fatto uno uno e quattro assist penso niente 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 senti vieni vuoi ringraziare qualcuno tutta la squadra tutta la squadra tutta la squadra complimenti bravissimi alla prossima ciao ragazzi ciao a tutti